Per la realizzazione a quattro corsie del tratto Lecce-Taranto della statale 7 Ter, Bradannico-Salentina, c'è una mozione che impegna la regione e che parla chiaro. Il nucleo di valutazione regionale è chiamato a rivedere l'analisi costi-benefici e l'opera va inserita fra le prioritarie nel piano regionale dei trasporti. E quanto sostengono i consiglieri regionali di centrodestra? Paolo Pagliaro, Luigi Caroli, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Massimiliano Di Cui, Antonio Gabellone, Pari De Mazzotta, Renato Perrini e Antonio Scalera. Poiché la regione sta procedendo invece con un progetto che prevede la messa in sicurezza del tracciato a due corsie già esistente, nonostante la contrarietà dei sintaci dell'area Ionico-Salentina, proseguono gli esponenti politici, è necessario che venga a renderne conto in commissione trasporti. Da qui la nostra richiesta di audizione, che chiediamo venga convocata con urgenza. Sul mancato rispetto degli impegni contenuti nella mozione, chiediamo risposte al presidente Emiliano e all'assessora Mauro Di Noia a confronto con i sindaci interessati al tracciato, ossia i comuni di Lecce, Carmiano, Campi-Salentina, Guagnano, Novoli, San Pancrazio, Surbo, Trepuzzi, Taranto, Carosino, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Monteparano, San Giorgio e Sava, e poi con tutti gli attori coinvolti. È chiaro ed evidente, secondo i consiglieri, che c'è una precisa volontà del governo regionale di relegare il Salento a trasporti e infrastrutture di serie B, escludendolo anche dall'alta velocità ferroviaria e mortificando le potenzialità dell'aeroporto di Brindisi. Lecce e Taranto, fanno sapere i rappresentanti dell'opposizione, sono gli unici due capoluoghi della Puglia non collegati da una superstrada a quattro corsie. Questo ha rallentato il decollo dell'area ionico-salentina, impedendo la naturale connessione fra il tessuto produttivo leccese e quello tarantino, ridimensionando gli scambi non solo commerciali, ma anche culturali fra le due anime dello stesso territorio. Tutti elementi trascurati nell'analisi fatta a suo tempo dal nucleo di valutazione regionale è limitata ai volumi di traffico e ai costi-benefici. Sulla base di queste analisi, la Regione decise di accantonare il progetto del tracciato a quattro corsie della sette terbre d'annico-salentina nel tratto Lecce-Taranto, ripiegando su progetti di messa in sicurezza della statale esistente. Ma i numeri fini a se stessi, senza proiezioni realistiche su quelli che potrebbero diventare con una strada a quattro corsie, lasciano il tempo che trovano. Per il nostro territorio, concludono i consiglieri di centrodestra, resta rinunciabile il raddoppio della strada Lecce-Taranto da due a quattro corsie per mettere in connessione diretta, sicura e moderna i due capoluoghi e velocizzando i traffici di media e lunga percorrenza ed evitando così i numerosi attraversamenti urbani esistenti. La Regione, concludono i consiglieri di opposizione, dia seguito al mandato della mozione approvata ormai un anno e mezzo fa, provvedendo anche con fondi propri a cofinanziare la realizzazione del tracciato quattro corsie tra Lecce e Taranto. Questa è la nostra richiesta, che recepisce la volontà dei territori che rappresentiamo.